Buongiorno ragazzi, qui è Cristian Boccedo, esperto di dimagrimento e tonificazione per donne e ragazze tra i 20 e i 60 anni e fondatore della Cristian Boccedo Coaching, azienda che porta quotidianamente centinaia e centinaia di donne a trasformare una volta per tutte il loro fisico. Se anche tu vuoi trasformare il tuo fisico, ti basta candidarti dal nostro sito che trovi qua in descrizione. Nel video di oggi ti spiegherò dettagliatamente quali sono i tre errori più comuni che praticamente il 99.9% di tutte le donne e tutte le ragazze fanno quando iniziano una fase di dimagrimento, quando si mettono lì o dico, dal lunedì inizio finalmente il mio percorso, dimagrisco e ottengo il fisico che finalmente cacchio voglio, sono anni che non ce la faccio ma adesso non ce n'è per nessuno, ce la faccio. Anche molti clienti, nostri clienti che al momento sono molto soddisfatti dell'euro fisico, prima di iniziare a lavorare con noi hanno affrontato tutti questi errori e adesso vi sfido andare a chiedere a tutti loro, fanno esattamente l'opposto e difatti finalmente hanno ottenuto il loro fisico di sogni, hanno un corpo tonico, mangiano tanto e continuano a migliorare sempre e ogni settimana sempre sempre di più. Ok? Allora partiamo dal primo errore in assoluto che ho visto fare ovviamente a qualsiasi donna sulla faccia di questo pianeta, fare troppo esercizio aerobico, fare troppo cardio. Quindi cosa succede? Devi dimagrire, ti ritrovi un po' quel grasso in più, quella massa grassa in eccesso, un po' la pancetta, i fianchi, le cosce sono gonfi e vuoi togliere comunque quei chili di troppo che non ti piacciono, che non fanno risultare il tuo corpo estetico, armonioso e gradevole come lo vuoi per davvero come le fitness model che vedi. Allora tu dici adesso devo dimagrire o perdere questo grasso, vado a correre adesso tutte le mattine, mi sveglio alle 5, faccio un'ora di corsa, anche se ci sono due gradi fuori, corro tutte le mattine, poi se ho anche tempo la sera quasi quasi vado a farmi qualche corso in palestra, faccio il corso di tonificazione, zumba, magari faccio un'oretta sull'ellittica, un'oretta di bici, nel weekend vado a camminare in montagna, faccio trekking con una salita del genere e questo perché è un errore molto frequente e dannoso, veramente super super dannoso. Allora diciamo in primis che l'allenamento aerobico, l'allenamento cardiovascolare è un allenamento, una tipologia di allenamento finalizzata a migliorare la salute, il benessere del cuore appunto, è proprio allenamento cardiovascolare, non per bruciare il grasso, ma cardiovascolare perché va ad allenare il muscolo cardiaco. In seconda cosa l'allenamento aerobico lo possiamo utilizzare per bruciare qualche calorie extra, ma cosa succede se tu frequentemente vai a fare un allenamento aerobico molto intenso e di lunga durata? Che ok, magari puoi anche bruciare qualche calorie extra, puoi anche perdere qualche chilo perché passi dal divano, non fare niente, mangiare schifezze tutto il giorno, magari inizi a sistemare un po' l'alimentazione, sistemare il tuo stile di vita, vai anche comunque a correre, effettivamente aerobico, comunque il dispegno energetico aumenta così che è da zero che eri sul divano, guardare Netflix e mangiare le patatine con la maionese, passi comunque perlomeno a muoverti e cambiare un minimo le abitudini in positivo, è ovvio che qualche chilo lo vai a perdere, anzi probabilmente anche immediatamente che butti fuori dal corpo acqua, glicogeno, butti fuori le schifezze accumulate negli ultimi 30 anni di vita dannosa, ok, sicuramente questo è meglio che non fare niente, se ne sono il dubbio, ma cosa succede? Che ovviamente l'attività aerobica molto intensa, di lunga durata e fatta molto frequentemente va a intaccare anche il tessuto magro, oltre a quello grasso e questo soprattutto se hai poi un'alimentazione adeguata, perché se poi mangi il surplus calorico, mangi troppo e male, puoi correre quanto vuoi, puoi fare 6 ore di ellittica al giorno ma comunque non dimagrerai, ma andando a intaccare il tessuto magro andiamo a perdere poi la componente fondamentale di quello che è il metabolismo basale, ovvero cosa significa? Adesso te lo spiego in modo molto semplice perché sapete che mi piacciono le supercazzole, allora ovviamente quando dobbiamo fare un'attività aerobica molto intensa, si è fatta frequentemente, quindi quando si esagera insomma, il corpo ha bisogno di questa energia extra che richiede, dove andare a prendere da qualche parte, dopo che è andato ad attingere al tessuto grasso, ma se si fa un'attività troppo intensa, comunque va a sfruttare anche le proteine muscolari, il glicogeno muscolare, comunque tutta la componente del tessuto magro come fonte energetica e se appunto lo fai troppo esagio, troppo spesso, troppo frequentemente di lunga durata, ne va a utilizzare di parecchie scorte del tessuto magro. Quindi sappiamo benissimo, come ho spiegato già in un milione di video, lo ripeto quotidianamente, che l'unico modo che hai di aumentare il tuo metabolismo basale è quello di avere più massa muscolare, quindi capisci bene che se facendo attività aerobica, ok, sul momento consumi quelle calorie, ma vai a perdere la massa muscolare, vai a diminuire il tessuto magro, sul lungo periodo quello che fai è peggiorare la tua condizione metabolica, ok? Questo significa che se perdi massa muscolare, puoi anche perdere peso sul bilancio nel momento, ma in primis la tua composizione corporea peggiorerà. Quindi esteticamente comunque sarei peggiore, cioè nel senso, puoi anche scendere il peso, ma se hai meno muscolo e il grasso rimane lì invariato, comunque peggiorerà. L'effetto che ottieni è il sacchetto dell'esse lunga svuotato, non penso che nessuno voglia quello. Cioè se guardate a livello fisico preferite quello di una maratoneta o quello, non so, di una pallavorista per dirvi, o di qualsiasi altra atleta che fa comunque uno sport più di potenza, una ragazza fitness, una bikini, quello che volete, ok? Quindi se continuate a perdere massa muscolare, peggiorate esteticamente e andate a peggiorare la vostra condizione metabolica, il vostro metabolismo basale. Così che se un lungo periodo perdete muscolo, esteticamente continuate a peggiorare, non andate incontro poi anche ai problematiche patologiche abbastanza importanti, perché poi se continuate a bruciare muscolo, arrivate in un momento in cui se mangiate mille calorie ingrassate, cosa fate? Poi li continuate a correre sempre di più o mangiare sempre di meno? Così che a lunghissimo periodo veramente andate incontro in quegli stalli che appena mangiate mezza mena di più ingrassate. E non sapete neanche perché, perché di pure che anche sono a dieta, mangio bene, corro tutti i giorni, ok? Quindi non fate questo errore, il vostro obiettivo è quello di preservare perlomeno e migliorare il più possibile la massa muscolare, è l'unica, è l'unica componente su cui possiamo agire per aumentare il metabolismo basale. Il metabolismo basale consuma le calorie date dal corpo all'interno, quindi dagli organi, dalla respirazione, tutte le attività vitali, la vista, il cuore che batte, il grasso, il tessuto muscolare, il tessuto magro, le ossa, i tendini, i legamenti, tutto quello che ci tiene in vita a riposo, ok? Più muscolo hai, quindi più componente muscolare e metabolica attiva hai e più consumi calorie, quindi il muscolo tu lo vuoi tenere. No, non sto parlando di diventare grossi e enormi, tu vuoi preservare quel dannato muscolo, perché è quello che ti fa consumare più calorie e ti dà altri tantissimi benefici a livelli incredibili che ho spiegato in miei altri video, vatteli a reperire, oppure scrivi a qualcuno dei nostri clienti di chi li si è mai diventata grossa o ha ottenuto un fisico da bodybuilder che non gli piaceva sollevando quei dannati pesi e aumentando sta cavolo di dannata massa muscolare, ok? Buono. Passiamo al secondo punto, eliminare i carboidrati o eliminare i grassi o eliminare qualsiasi categoria di alimenti, di macronutrienti. Perché è sbagliata questa cosa? Perché sappiamo benissimo che non esistono cibi buoni o cibi cattivi, cibi che fanno ingrassare, cibi che non fanno ingrassare, addirittura intere categorie di alimenti che fanno ingrassare o dimagrire. I carboidrati presi singolarmente non fanno ingrassare, anzi, i grassi presi singolarmente non fanno ingrassare, anzi, le proteine prese singolarmente non fanno ingrassare, anzi, voi sono le più importanti. E come ho già spiegato anche qui veramente mille mille volte, la tua dieta non deve avere un nome, deve essere uno stile di vita equilibrato, sostenibile, moderato, che ti porta ad avere equilibrati macronutrienti, micronutrienti, le calorie e lo puoi gestire in modo anche piacevole per sempre. Non sono i carboidrati a far ingrassare, anzi, se ti alleni duramente, intensamente con i pesi, i carboidrati sono fondamentali a scopo energetico, sono quelli che ti danno le energie per spingere quei dannati pesi in palestra che ti fanno migliorare il muscolo e ci ricolleghiamo al punto precedente. I grassi non fanno ingrassare, svolgono funzioni vitali, specialmente per una donna, regolano tante funzioni ormonali, regolano l'assorbimento delle vitamine, regolano il sistema immunitario, hanno veramente delle funzioni fondamentali. I due macronutrienti fondamentali sono i grassi e le proteine. I carboidrati sono necessari, ma in caso ne mancassero il corpo può auto-riprodurli con alcuni processi, andando a scindere i grassi e le proteine e trasformandoli in zuccheri, poi che li utilizza a scopo energetico. Ma se non assumi abbastanza grassi e proteine, li vai in carenze che diventano gravi. Quindi i grassi sono assolutamente fondamentali. L'olio, frutta secca, i pesci grassi, le uova, l'avocado, mangiali, mangiali, mangiali assolutamente. Sono importantissimi, importantissimi. Non scendere mai se sei una donna sotto lo 0.7-0.8 grammi per chilo corporeo al giorno. Per brevi periodi si può anche scendere leggermente, ma non te lo sconsiglio assolutamente, fai attenzione in modo particolare i grassi. E poi abbiamo le proteine. Beh, le proteine penso che ci sia nulla da dire. Svolgono funzioni anche qui di vitale importanza, funzioni strutturali e sono quelle che vanno anche a stimolare la massa muscolare, hanno funzioni anti-cataboliche, quindi mantengono attiva la massa muscolare, la sintesi proteica che porta all'aumento muscolare, alla stimolazione del tessuto magro. Sono le più importanti. sono le più importanti. Se ti alleni come si deve, se vuoi migliorare la tua composizione corporea, migliorare la tua tonicità, dimagrire, diventare più forte, resistente, devi prestare in primis attenzione alle proteine. Anche qua, solitamente per le nostre clienti, se sono principianti, non si allenano da tanto tempo, cerco di non scendere mai sotto il grammo 1.6-1 grammo e mezzo per chilo corporeo, perché poi hanno anche dei benefici sotto il livello della sostenibilità di alimentazione, dove hanno tanta sazietà le proteine. Sono alimenti che danno sazietà perché hanno una digestione lunga, quindi danno benefici anche sotto quel punto di vista. Sono assolutamente le include carne, pesce, uova, yogurt, latte, latte derivati, proteine in polvere, di ogni tipo. Di ogni tipo preferisci quelle ad alto valore biologico, quindi sono quelle che hanno tutto lo spettro amminocidico completo. Se assumi fonti proteiche che non hanno un alto valore biologico, come le fonti vegetali, puoi mischiare insieme così che si completa lo spettro amminocidico, ovvero se assumi tipo i legumi come fonte proteica, hanno delle carenze in alcuni amminoacidi, quindi se li abbini tipo a una fonte di cereali, la pasta e i fagioli, il riso e i piselli, si completa questo spettro amminocidico così che il valore totale delle proteine è comunque ad alto valore biologico. Ovviamente ricordati che ti porti dietro anche parecchi carboidrati e o grassi. Quindi non devi assolutamente eliminare nessuna tipologia di alimento, non devi eliminare nessuna categoria di alimenti. Ricorda che si ingrassa solo in caso di surplus calorico, specialmente se quel surplus calorico non è indirizzato verso il muscolo con un allenamento adeguato. Quindi insomma, se non fai niente tutto il giorno, non ti alleni, stai sul divano vegetale, mangi troppo e male, ingrassi. Non è un alimento in particolare che ti fa ingrassare o che rovina la tua salute, ma bisogna guardare sempre il complesso a 360 gradi, ok? Capito? Terzo punto, spesso molto sottovalutato e questo credo che non abbiate sentito mai nessuno, ma è quello di voler affrontare una fase di dimagrimento, una fase di ipocalorica, di dieta ipocalorica, di deficit calorico troppo presto quando non è il caso. Tu dirai, ma come? Cioè, se ci dici sempre che per dimagrire dobbiamo stare in deficit calorico, adesso mi dici il contrario. Ebbene sì, allora, anche qui in altri video l'ho spiegato. Arriviamo, ci sono molti clienti che arrivano da noi quando iniziano a lavorare con noi, che stimandoli un po' il calcolo calorico, per dimagrire, per perdere peso dovrebbero mangiare magari mille e cento calorie. Mille e cento calorie, una pizza margherina, insomma, è alge cene. Questo perché? Perché magari sono donne molto leggere, che pesano 48-49 kg. Fanno un lavoro super sedentario, quindi hanno una media di passi al giorno, sotto i 3.000 passi al giorno. Hanno poca massa muscolare, magari sono anche molto basse. Si allenano poco o niente, 2-3 volte a settimana, magari con poca intensità, con poco effort. Ancora sono molto principianti, quindi non riescono a spremersi per bene quando si allenano. Magari non hanno tanti carichi a disposizione, si allenano principalmente a corpo libro, con le band, con gli elastici o con pochi pesi a disposizione, ok? Quindi sicuramente una figura del genere è difficile che riesca a dimagrire mangiando più di mille e duecento calorie. Ovviamente capisci benissimo che a long term, in ottica di lungo termine, mangiare così poco non diventa sostenibile perché se davvero lo sabato sera ti vuoi fare l'aperitivo, ti mangi una pizza col marito, con le amiche, hai fottuto tutto il deficit della settimana perché mille e duecento calorie al giorno sono davvero una pizza margherita, nel senso è difficile sostenibilità sul lungo periodo. Per questo anche che molte persone che si ritrovano simili a questa situazione, purtroppo tante, che sono tante donne che magari stanno su quel peso, hanno un po' di grasso da perdere, sono basse, si muovono poco, si mangiano male, magari hanno anche dei pregressi metabolici causati da aver fatto troppo cardio in passato, aver eliminato i carboidrati in passato, c'è tutte queste cose, quindi adesso si ritrova una condizione metabolica pessima che appena toccano qualcosa in più ingrassano, quindi è difficile farle dimagrire soprattutto a livello di sostenibilità, è difficile da sostenere. Quindi cosa preferisco fare in questi casi? Ovviamente con i clienti che vedo responsive, che mi ascoltano e che capiscono che è la cosa giusta da fare in quel momento perché sarebbe veramente insostenibile dimagrire mangiando così poco. Prima cosa assolutamente da fare è quella di impostare, come dicevamo prima, un allenamento adeguato che le fa aumentare sta dannata massa muscolare. Perché se nel giro di tre mesi, per esempio, aumentano anche tre, quattro, cinque chili di muscolo, queste poverette finalmente, magari con cinque chili in più di muscolo al giorno, riescono a consumare anche a riposo 100-150 calorie in più tutti i santi giorni, così che in una settimana possono mangiare mille calorie in più, così che magari il loro deficit precedente, iniziale, è di 1100 calorie, adesso dopo che hanno aumentato 5 chili di muscolo, magari il loro deficit diventa e inizia a essere 1300-1250, perlomeno 1350 a seconda poi di quanto muscolo mettono e sicuramente se hanno aumentato così tanto il muscolo è perché hanno aumentato anche l'allenamento, si stanno allenando bene, hanno aumentato il consumo diretto dell'allenamento stesso, si spremono di più, hanno capito come fare gli esercizi, con che tecnica, con quale esecuzione corretta, riescono a metterci la giusta intensità, il giusto effort, così che abbiamo anche un consumo calorico e un consumo di glicogeno muscolare, di carboidrati, zuccheri, grassi, fonti energetiche date dallo stesso allenamento maggiore, così per farla semplice, magari a inizio percorso dimagriscono mangiando 1100 calorie e dopo 3 mesi possono dimagrire mangiando il 1400, e già è una cosa completamente differente. Secondo punto su cui bisogna andare a lavorare è quello del NEAT, non Exercise Activity Termogenesis, ovvero il consumo energetico adatto a tutte quelle attività che non sono strettamente legate all'attività fisica, non sono strettamente legate allo sport e all'esercizio, il gesticolare quando si parla, il muoversi, camminare, il tipo di lavoro che si fa, eccetera eccetera eccetera, anche qui ne avevo già parlato mille volte. Quindi andare a lavorare su il movimento quotidiano in primis, come dicevamo prima, se fanno un lavoro molto sedentario da meno di 2000 passi al giorno, abbiamo sistemato l'aspetto dell'allenamento, hanno aumentato la massa muscolare, magari diciamo, senti, cara Francesca, cara Martina, cerchiamo di aumentare un po' il movimento quotidiano, magari invece che stare seduta 16 ore al giorno, prova ogni oretta, perlomeno ti alzi, ti muovi un pelo, magari fai 10 squat se stai lavorando a casa, oppure ti aggiungi una camminata di mezz'oretta al mattino, una camminata di mezz'oretta dopo cena, cerchi di parcheggiare più lontano quando vai al lavoro, e ti muovi di più a piedi, vai in bici a lavorare, scendi alla fermata prima dell'autobus e vai a piedi al lavoro, ok? Magari porti fuori il cane una volta in più in quella giornata, ti fai una camminata nel weekend in mezzo ai boschi, in mezzo alla natura, che ti fa anche bene all'umore, così cerchiamo di portare la media settimanale dei passi, magari da 2000, iniziamo ad andare a 5000 magari, 6000, che non è così impossibile, 6000 passi al giorno, vi dico, li ho fatti già adesso praticamente e non mi sono mostro di casa, cioè significa fare una camminata di 20-30 minuti al giorno, fare 6000 passi, è proprio nulla, chi fa meno di 3000 passi al giorno significa che passa dal divano al letto, dallo stare seduto in ufficio, muoversi solo in macchina, non cammina, non prende neanche le scale a casa, ecco anche lì nel senso, se abitate al primo, secondo piano, terzo piano, cercate di abolire l'ascensore, magari andate a piedi, che tanto fare 2-3 piani a piedi a salire e scendere non vi fa certamente male, anche se avete una borsa della spesa non succede nulla, cacchio, un conto se avete 6 casse d'acqua va bene, se state al primo o secondo piano, l'ascensore cosa vi serve? Anche lì mi dite, vabbè io abito al decimo piano, va bene, posso concepirlo, magari puoi farti anche i primi due piani a piedi e poi prendi l'ascensore, per dirvi, cioè le strategie si trovano se si vogliono trovare, nel senso, una giornata, si parcheggi un po' più lontano quando vai al lavoro, inserisci una camminata di mezz'oretta al mattino e magari esci a portare fuori il cane alla cena, a sera, dopo cena, nella giornata lavorativa invece che essere completamente seduta davanti al pc tutto il tempo, ogni oretta ti alzi fai 10 passi avanti e indietro, vai in bagno a bere un bicchiere d'acqua, nel weekend fai una passeggiata bella lunga in mezzo a natura, magari in palestra dopo l'allenamento fai 5 minuti sul tempo in urlana a livello molto blando, una settimana abbiamo accumulato quei 4-5 mila passi in più di media, capisci bene che quel dispegno calorico energetico quotidiano inizia a aumentare almeno anche di 100-150 calorie al giorno, così che abbiamo aumentato il muscolo, abbiamo aumentato il dispegno energetico dato del movimento quotidiano, siamo passati da 1100 calorie per dimagrire, magari siamo arrivati a 1500 calorie per dimagrire, è tutta altra storia, che poi col giusto percorso, il giusto allenamento, il giusto piano nutrizionale, magari dopo un po' di tempo possiamo anche effettuare un percorso di reverse diet, che così diamo quel boost metabolico, dopo magari 6 mesi che lavorano con noi, i nostri clienti, sono entrate 1100 calorie che per dimagrire, magari dopo 6 mesi ne possono mangiare 2100 per dimagrire, con una composizione corporea totalmente diversa, con un fisico armonico, estetico, cioè rivoluzionato, con i glutei belli alti, soli, le gambe snelle definite, l'addome asciutto definito, le spalle un po' più rotonde, le braccia senza tendine, belle toniche, con un fisico come diavolo piace a loro, riescono a fare un'alimentazione più sostenibile perché mangiano il doppio, possono concedersi gli aperitivi fuori, una pizza col partner senza paranoia e stress, vivono tutto più serenamente, si approcciano al fitness, all'allenamento, alla dieta come diavolo gli piace a loro, senza sbattimenti, fanno le cose che si devono, se le erano quelle tre volte a settimana, da un'oretta, ma quando entrano in palestra, o quando arrivano a casa e prendono i pesi, si concentrano, spingono come si deve, è tutta un'altra storia, hai capito? Che quali sono i tre errori, è chiaro? E queste sono cose veramente molto frequenti perché se pensi anche nella tua immaginario comune, quando senti l'amica, la collega dice, no vada lunedì mi metto dieta, elimino i carboidrati dopo le 5, al mattino vado a correre tutte le mattine un'ora in più, faccio un corso di tonificazione in palestra 3 volte a settimana e mi metto subito in deficit calorico, 900 calorie al giorno, dopo un mese sono fottute, hanno distrutto il loro corpo e il loro fisico, quindi no, attenzione a non fare questi errori perché sono fatali, poi sul lungo periodo puoi andare incontro anche a problematiche più di grave entità. Attenzione! Ti ricordo che se vuoi trasformare il tuo fisico, definitivamente senza fare errori del genere, potremmo essere seguita passo a passo da un team di professionisti che sanno dirti cosa devi fare nel modo corretto, puoi candidarti al nostro coaching dal sito che trovi qua in descrizione, cristianbocidacoaching.com, vai sul sito, trovi un bel forum da compilare, compilalo molto dettagliatamente, se vieni accettata, vieni ricontattata poi da un mio fitness coach, entro massimo 2-3-4 giorni da quando inviato la candidatura, così ti spiega tutto quanto per bene. Se hai dubbi di ogni tipo, vuoi sapere se abbiamo posto un momento sul coaching che io non lo so, quindi parlare col team, sapere eventuali altre info eccetera eccetera, puoi chiamare il nostro numero verde gratuito 800-345-999, parli con uno dei nostri coach e gli chiedi tutto questo.